ciao amici miei mi raccomando di seguire il canale di marco drums games e vi do una dritta ragazzi il grandissimo gran turismo 7 ci aggiorna con un milioncino bonus venite come a vedere eccolo qua il grandissimo gran turismo stamattina ci avvisa che ci darà un bel milioncino di crediti amici miei per i disservizi che ci sono stati con i server quindi ragazzi mi raccomando andate a riscattare il milioncino adesso poi capiamo come fare lo scriverò nei commenti e la cosa più importante è iscrivervi al canale twitch e canale youtube di marco drums games channel ciao amici vi aspetto online e amici miei ecco che sono arrivati il milioncino di crediti grazie 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 gran turismo bella lì raga bella bella lì amici miei miei ecco che ci